Le riunite prima Affari Costituzionale e Quarta Difesa rega nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizione in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia l'audizione informale di rappresentanti del COCER, sezioni, guardie di finanza e carabinieri. Avverto che con il consenso degli invitati la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Saluto i nostri ospiti e li ringrazio di essere presenti all'audizione odierna. Faccio presente che la nostra audizione dovrà terminare intorno alle 11. Raccomando pertanto ai diversi delegati presenti di contenere il proprio intervento in 5 minuti ciascuno. In tal modo al loro termine, dopo un giro di domande da parte dei membri delle commissioni, disporremo ancora di un lasso temporale per le eventuali risposte e repliche. Resta fermo che se il tempo non fosse comunque sufficiente potranno pervenire alla commissione risposte scritte. Do quindi la parola al generale di brigada Giancarlo Trotta, presidente del COCER, sezione, guardie di finanza. Prego, generale. Buongiorno, signor Presidente, onorevoli, e grazie per questa opportunità di oggi. Non è la prima occasione di incontro, diciamo, in materia di riordino delle carriere, anche perché al riordino del decreto legislativo, che è stato operato con il decreto legislativo numero 95 del 2017, è già seguito per le forze di polizia un primo correttivo, che però si è limitato a affrontare solo tematiche di natura frontale, chiosco formale, anche a causa della limitatezza delle risorse finanziarie che erano state messe a disposizione. Avevamo già rappresentato in serie di audizione su quel provvedimento che le questioni più significative rilevate dal COCER della Guardia di Finanza, anche su segnalazione dei consigli intermedi e di base, e che sarebbero dovute essere affrontate in successivi decreti correttivi, attenevano ad alcuni aspetti, precisamente alla sperequazione retributiva a svantaggio dei vicebrigadieri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrale, quindi il 1 ottobre 2017, rispetto ai vicebrigadieri che avevano conseguito il grado in un'epoca successiva, al mancato riconoscimento di un'indennità, una tantum, nei confronti dei brigadieri capo di elevate anzianità di grado, essendo state riconosciute esclusivamente ai pari grado con più di otto anni di anzianità, nonché nei confronti degli appuntati scelti qualifica speciale arruolati nel 1994, al riconoscimento giuridico dei periodi pregressi di permanenza nel grado per gli ispettori che non avevano soffrito degli automatismi previsti dal decreto legislativo numero 95, al differente sviluppo di carriera rispetto alle altre forze di polizia per i luogotenenti che hanno partecipato e parteciperanno ai concorsi per l'accesso al ruolo ufficiale, all'impossibilità di transito nelle qualifiche funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il personale dirigente giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato. Inoltre, al fine di una maggiore tutela della famiglia, era stata segnalata la necessità di prevedere il ricongiungimento dei coniugi appartenenti a diverse amministrazioni del comparto difesa e sicurezza e di prevedere altresì la piena applicazione quale mobilità interna dell'articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001. Prendiamo atto del contenuto dello schema di decreto legislativo che oggi è all'esame delle commissioni e riteniamo di dover rilevare che alcune di queste sperequazioni e criticità sono state risolte, ma rimangono invece irrisolti alcuni temi. È precisamente quello della sperequazione retributiva a svantaggio dei vicebrigadieri nominati in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo sistema parametrale rispetto ai vicebrigadieri che hanno conseguito il grado in epoca successiva. Il mancato riconoscimento di un'indennità a una tantum nei confronti degli appuntati scelti qualifica speciale arruolati il 1 ottobre 1994 e il differente sviluppo di carriera rispetto alle altre forze di polizia degli ufficiali vincitori del concorso straordinario riservato ai luogotenenti, nonostante sia stata prevista la riduzione da 6 a 3 anni del periodo di permanenza nel grado per l'accesso alla procedura concorsuale. Nello stesso schema di decreto legislativo all'articolo 45 è stato inserito il comma 31 bis che nel ribadire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 42 bis comma 1 del decreto legislativo 151 del 2001 esclusivamente con riferimento alle istanze di assegnazione nell'ambito della stessa forza di polizia di appartenenza del richiedente sancisce che il diniego è consentito per motivate esigenze organiche e di servizio. E in merito questo consiglio ritiene che questa modifica non appare conforme ai principi dirattivi della delega non attenendo in alcun modo lo sviluppo delle carriere del personale delle forze di polizia non risponde alle aspettative di questo consiglio già annunciate in occasione anche delle precedenti audizioni circa la richiesta di una piena applicazione di tale diritto al personale delle forze di polizia di fatto sterilizza l'esercizio di questo diritto in ragione della perdurante carenza di organici che legittimerebbe il diniego da parte dell'amministrazione e non è rinvenibile nell'analogo schema di decreto legislativo che invece riguarda le forze armate. In relazione alle annunciate maggiori risorse assegnate per le misure correttive questo consiglio auspica che queste vengano utilizzate per sanare le spereguazioni ancora rimaste irrisolte e sovrasintetizzate escludendo interventi che dovrebbero essere più correttamente affrontati nell'ambito della procedura di concertazione di cui al decreto legislativo 195 del 1995. Io ho terminato la copia del mio intervento poi sarà consegnata e le chiedo di autorizzare alcuni interventi da parte degli altri delegati della Guardia di Finanza. Grazie. Grazie. Grazie generale. Appunto chiedo se vi sia qualcuno che intende intervenire. Prego. Buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli. Sono il luogo di cariche speciali Alessandro Maggiotta del cocer Guardia di Finanza. Io volevo partire con l'assunto che dalla piena consapevolezza come delegato che ogni progetto provvedimento di riordino come ogni correttivo probabilmente lascia sempre degli strascichi che vanno poi sanati. Da questo punto di vista diciamo che il principio di coordinazione che nel tempo si è oggettivamente affievolito in ragione delle varie esigenze dell'amministrazione del comparto che pur facendo parte appunto di uno stesso comparto in realtà hanno obiettivi e finalità in parte ed esigenze in parte differenti. Però ritengo che queste diversità possano essere giustificate solo per aspetti diciamo così marginali ma non per quelli sostanziali quali possono essere i parametri e quali possono essere gli sviluppi di carriera del personale delle singole amministrazioni che fanno parte del comparto. Quello che abbiamo proposto come cocere è sintetizzato ovviamente nel documento che proponiamo ma vorrei cercare di chiarire un po' alcuni concetti per esempio sulla sperequazione che riguarda i vicebrigadieri che hanno assunto il grado quindi hanno partecipato ai concorsi prima del primo di ottobre del 2017 è legato al fatto tra l'altro è citata anche nel parere delle commissioni sul precedente provvedimento correttivo quindi sul primo correttivo riguarda il fatto che si tratta di militari appartenenti allo stesso ruolo aventi lo stesso grado che con un'anzianità maggiore rispetto a quelli più giovani che hanno ottenuto il grado il primo di ottobre hanno un stipendio complessivo inferiore questo è ragione del trascinamento di un parametro più basso e quindi del riconoscimento di un assegno ad persona inferiore rispetto a quelli che hanno assunto il grado dopo il primo di ottobre l'indennità una tantum riconosciuta ai gradi apicali rimane un problema sia pur probabilmente superabile con una lettura della norma più chiara per gli appuntati scelti arruolati nell'anno 1994 perché una liquida di quel personale si è arruolata proprio il primo di ottobre di quell'anno e quindi maturerebbe il requisito proprio il primo di ottobre per avere l'indennità una tantum quindi diciamo che a nostro avviso basterebbe chiarire nella portata della norma da questo punto di vista col fatto che il requisito della permanenza del grado si assume si ottiene il giorno precedente al primo di ottobre quindi il 30 settembre quindi potrebbero rientrarci tranquillamente però magari di interpretazioni un po' perplesse della norma potrebbero condurre anche a discludere questo personale dall'attribuzione dell'indennità una tantum si tratta dall'altro di una liquida abbastanza ridotta quindi diciamo che in termini di spesa la spesa potrebbe essere abbastanza contenuta sicuramente il provvedimento correttivo lo schema di decreto legislativo ha risolto tantissime criticità tantissime sperequazioni permangono comunque alcuni accorpamenti nelle decorrenze giuridiche dei gradi pur in presenza di permanenza nel grado precedente di rilevanti quindi differenze di più anni sono state accorpate con una decorrenza giuridica del nuovo grado uguale però diciamo che una tra le criticità meno meno importanti poi c'è sostanzialmente il differente sviluppo di carriera del personale del ruolo ispettore creativo parlo dei luogodenti prima luogodenti carriere speciali oggi nello schema del legislativo anche luogodenti per quanto riguarda la guardia di finanza che transidano nel ruolo degli ufficiali questo è un aspetto che personalmente ritengo rilevante per il fatto che si vanno a disegnare dei profili degli sviluppi di carriera per personale appartenente all'arma dei carabinieri e il personale appartenente alla guardia di finanza sostanzialmente diversi pur riconoscendo che nel primo caso nell'arma dei carabinieri si tratta di un ruolo di esaurimento per il personale della guardia di finanza invece i nuovi ufficiali vengono inseriti nel ruolo normale con parto speciale di fatto però luogotenenti con pari requisiti che transidano nei ruoli di ufficiali nell'arma dei carabinieri assumono il grado di capitano in tre anni perché c'è stata una riduzione della permanenza del grado di sottotenente da due a un anno e nel grado di tenente da quattro a due anni mentre nella guardia di finanza questo stesso personale acquisisce il grado di capitano dopo sei anni diciamo che questo che secondo me è un principio cardine dal punto di vista delle coordinazioni che non dovremmo probabilmente superare non dovremmo sottacere che andrebbe in qualche modo risolto e poi in ultimo e concludo c'è il discorso il problema dell'inserimento di questa modifica sull'articolo 42 bis della 151 del 2001 che riguarda i trasferimenti della mobilità interna alle amministrazioni di personale che ha figli minori di tre anni che insomma in qualche modo finisce per solo per il comparto sicurezza tra l'altro finisce per sterilizzare gli effetti della norma perché le carenze organiche dell'amministrazione del comparto che sono ormai risapute ormai consolidate legittimerebbero i diniechi da parte dell'amministrazione a questi trasferimenti temporali che sono appunto trasferimenti che durano tre anni che teoricamente non dovrebbero comportare problemi organizzativi eccessivi ringrazio per l'ascolto e passo la parola al collega grazie grazie a lei prego io direi di fare il primo giro di intervento però io diciamo che per la rappresentanza della guardia di finanza o altri due interventi quindi eventualmente facciamo uno stacco tra forze di polizia chiarimento tecnico per seguire meglio quello che hanno detto il primo intervento si cita ad un certo punto l'articolo 45 del DLGS ma il DLGS si ferma all'articolo 43 a cosa vi riferite? si facciamo per capire cosa ha detto si lo facciamo magari alla fine degli interventi del rappresentante della guardia di finanza riprendiamo un attimo con una pausa con lei onorevole Fiano e poi prego continuiamo con gli interventi prego buongiorno presidente buongiorno onorevole sono l'appuntato caso delegato coce al guardia di finanza volevo solo fare una riflessione sotto un aspetto più politico che tecnico visto che i miei predecessori hanno ben illustrato quali sono le nostre esigenze noi auspichiamo che questo correttivo volga al termine al più presto possibile purtroppo molto spesso continuare con la logica di riordini sta creando dei veri e propri effetti di disordine mi spiego meglio noi stiamo uscendo da una stagione dove tutti chiedono riordini riordini c'è un lievitare continuo di gradi questo sta producendo degli effetti tra virgolette di carattere negativo dove questi legare la funzione al grado è diventato quasi qualcosa di impossibile noi chiediamo che ulteriori risorse qualora ce ne devono essere appostate devono andare tutte ad essere appostate su quello che è il discorso rinnovo contratto basta riordini i riordini così impostati dove dobbiamo far capire alla politica al personale che esiste sempre un anno zero che è l'anno di partenza dove qualcuno sarà sempre spereguato purtroppo usciamo da una stagione dove negli anni si è voluti regalare tra virgolette quello che sono dei gradi e dove le funzioni sono ormai saltate rispetto a quello che è l'impiego faccio una riflessione quando si è parlati di qualifiche apicali o di aggiunta di ulteriori qualifiche attualmente queste qualifiche non trovano di fatto nessun impiego se non quello precedente era una mia riflessione ci tenevo a farla per invitare la politica ad appostare ulteriori risorse su quello che è il rinnovo del contratto la ringrazio grazie a lei appuntato ci sono altre richieste di intervento da parte dei rappresentanti prego grazie presidente grazie commissari sono l'isola daverna delegato cuoce guardia di finanza al rafforzamento di quello che è stato detto dal presidente con il documento e anche degli altri colleghi che mi hanno preceduto io dico che apprezziamo questo stanziamento ulteriore che è stato preannunciato da parte del governo di 60 milioni ovviamente in un'economia di scala più completa ci rendiamo conto che si tratta di pochi milioni ripartiti per i singoli corpi ma crediamo anche che sia stato lo sforzo maggiore che si poteva fare in questo momento è chiaro che sono fermamente convinto anch'io che queste risorse dovranno essere utilizzate per porre rimedio ad alcune sperequazioni che sono emerse in modo evidente quindi concentrarsi prioritariamente a norme che attengono ai decreti correttivi del riordino delle carriere perché troppo spesso abbiamo visto nel tempo anche nel passato anche con il decreto correttivo spesso sono state fatte un utilizzo non propriamente attinente cioè che vanno più sulle materie di tipo contrattuale quindi da concordare da concertare sul tavolo della funzione pubblica quindi l'auspicio è quello di utilizzarle per sanare per riequilibrare le disparità di trattamento che ci sono non è accettabile nel modo più assoluto questa norma che noi abbiamo cercato anche di contrastare che va comunque a svilire se non ecco anichilire completamente l'applicazione del 42 bis è una norma che a suo tempo nasce a sostegno della genitorialità dei bambini sotto i tre anni e nel tempo ci sono state sempre storicamente c'è una giurisprudenza consolidata che dà sempre ragione ai ricorrenti che nel tempo si sono rivolti al giudice amministrativo affermando che il diritto alla famiglia e alla tutela è sacrosanta e quindi va garantito il trasferimento quindi a fronte di queste sentenze a favore del personale dei ricorrenti oggi si prova a fare una norma inserita di soppiatto in questo decreto correttivo che tra l'altro priverebbe per come è stata scritta con questa abile alchimia giuridica priverebbe l'applicazione di fatto perché i reparti sono tutti sotto organico e nel tempo addirittura anche la legge Emadia aveva rafforzato su nostra spinta questa normativa e aveva precisato che le esigenze di servizio devono essere puntualmente esplicitate e quindi non è sufficiente una locuzione generica di mancanza di posto mancanza di esigenze di servizio se passa questa norma il 42 bis non si applicherà più nel nostro mondo tra l'altro c'è questa ulteriore disparità ci sembra di capire che tra i due articolati a noi come forze di polizia ad ordinamento militare e civile continuano a rimanere alle forze armate è stata espunta quindi chiedo di verificare attentamente di non creare ulteriori disparità di trattamento concludo affermando anche e ribadendo che c'è questa forte disparità degli appuntati scelti transitati a brigadieri che percepiscono un trattamento economico un parametro inferiore del loro pari corso perché lì c'è stato un problema per coloro che hanno fatto il corso diciamo dal primo gennaio al 30 settembre 2017 è stato applicato un nuovo parametro quindi con l'entrata in vigore di parametro dal primo ottobre 2017 è stato sanato mentre rimangono diversi corsi che vanno dal 2014 al 2018 che continuano a prendere un trattamento stipendiale che è largamente inferiore questa è una problematica che è stata ritenuta fondata giuridicamente corretta anche nel precedente correttivo al DL 95 2017 c'è anche un provvedimento delle commissioni che ritenevano corretto questa rivendicazione però poi per mancanza di risorse non sono state sanate è assurdo continuare a mantenere questa spiegazione quindi o in questa occasione se è possibile correggere questa forte disparità che vedrebbe poche migliaia di persone comunque avere un trattamento di questo genere oppure agire con questi 60 milioni e poter rimuovere questa disparità di trattamento grazie grazie a lei appuntato adesso la parola ai colleghi che intendono intervenire l'onorevole Fiano prego grazie presidente ringrazio anche i rappresentanti i vari rappresentanti del coce della guardia di finanza la prima domanda è quella che ho anticipato prima perché nella relazione che abbiamo gentilmente ricevuto si cita per questo schema di decreto legislativo l'articolo 45 che però finisce l'articolo 43 quindi se poi ci spiega esattamente a quale articolo faceva riferimento mi pare di capire che in questa relazione poi non so se gli altri intervenuti hanno consegnato una relazione perché non è semplice seguire tutte le l'articolazione delle istanze quelle scritte sono chiare quelle dette a voce per noi rimarranno un po' più complesse da quindi tutto quello che ci può arrivare di scritto come relatore per lo meno mi pare che voi diciate che rispetto al nuovo test rimangono irrisolte la sperocazione retributiva svantaggio dei vicebrigadieri nominati in data antecedente all'1.10.2017 il mancato riconoscimento di un'indenità una tanto nei confronti degli appuntati scelti arruolati il primo ottobre 1994 e il differente sviluppo di carriera rispetto alle altre forze di polizia degli ufficiali vincitori del concorso stratenare riservati ai luogotenenti se correggetemi se sbaglio il governo ha già ipotizzato una ripartizione proporzionale sulla base delle proporzioni del precedente stanziamento per il riordino del carriere per le singole forze e alla guardia di finanza di quei 60 milioni credo che dovrebbe aspettare in questo supplemento di riordino circa 7 milioni 7 milioni e 100 quindi ovviamente si tratterà di capire e quindi chiedo se poi le rappresentanze dei consigli hanno avuto su questo una relazione con il governo o no si tratterà di capire questo ulteriore stanziamento se può essere se può essere applicato a una o a tutte le istanze che voi proponete e anche capire questa è la domanda perché questo è importante che a queste richieste venga calcolato un costo perché gli spostamenti diciamo di funzione o di progressione ovviamente hanno un costo l'ultima questione è quella appunto a cui fa riferimento anche a cui ha fatto riferimento l'ultimo intervento in particolare è quella famosa della disposizione del 42 bis che mi volevo essere sicuro di aver capito bene quello che voi dite e cioè che la richiesta di assegnazione non è consentita la richiesta di assegnazione per motivi familiari ad altre forze lo spostamento ad altre forze di polizia voi qui dite esclusivamente con riferimento alle istanze di assegnazione nell'ambito della stessa forza di polizia d'appartenenza del richiedente sancisce poi aggiungete che il diniego è consentito per motivare esigenze organiche di servizio e sostanzialmente voi ci spiegate che questa norma scritta così per durante la carenza di personale sostanzialmente impedirebbe questo spostamento questa ovviamente è una questione che possiamo valutare con attenzione ovviamente anche con le vostre amministrazioni però sarebbe utile che per le vostre richieste che c'è questo ulteriore stanziamento potesse capire che peso hanno finanziario grazie collega Fiano l'onorevole del Monaco prego allora anche per me la questione di sapere quindi di valutare tra queste richieste vostre insomma quindi quale sono le più urgenti per certe perché purtroppo i soldi che sono stati stanziati in più sono quelli e come diceva il collega stiamo a livello di 7 milioni di punto 100 cioè quindi è questo il budget che c'è per la finanza e quindi dovremmo definire una priorità e soprattutto fare come diceva anche lui un calcolo una cosa sono mille persone duemila persone come si diceva prima e una cosa sono magari un budget o magari a pioggia quindi non riusciamo insomma quindi allora magari siccome si sta facendo un passo in avanti vediamo quale è la categoria in questo momento che è stata un po' meno aiutata meno attirata in ballo dal punto di vista economico insomma si può dare un contributo in dal senso questo vale per la finanza però chiaramente voglio anche fare riferimento a quello che diceva prima il collega su 42 bis che non riguarda soltanto la finanza ma riguarda anche i carabinieri quindi è vero questa cosa che c'è una diversità di trattamento per l'applicazione di questa norma cioè a dire nelle tre forze armate questo avviene quindi normalmente si ha il trasferimento insomma per per l'esigenza quindi familiare mentre per quanto riguarda in questo caso quindi carabinieri e finanza si dà invece il passo il passo avviene soltanto se non c'è un problema di natura organica cioè dopo l'esigenza di servizio può avvenire quindi questa è una cosa che prima o poi dovremmo cercare mettere anche in pendola per togliere questa spiegazione insomma laddove è possibile quindi invito la finanza e questo vale anche poi per i carabinieri a tenere presente il budget e soprattutto se dobbiamo andare verso un'esigenza se dobbiamo andare a saturare un'esigenza che sia un'esigenza che possiamo saturare perché se diciamo prima l'esigenza è di 15 milioni non ce la facciamo quindi noi abbiamo 7 milioni quindi dobbiamo lavorare su quello grazie grazie collega l'onorevole Prisco prego sì grazie presidente noi ho due riflessioni a caldo a luce dell'audizione sicuramente molto utile per poter intervenire due ambiti uno di tipo giuridico credo dove si può intervenire a costo zero e in primis questa cosa che è stata ulteriormente segnalata anche a me in molti casi cioè quella del 42 bis magari trovare una misura unica per tutte le forze armate perché poi di fatto un istituto di ordine generale non è specifico per ogni tipo di di corpo e quindi è giusto che il diritto soprattutto delle madri sia riconosciuto in via generale non solo per le forze armate ma anche per i carabinieri per la guardia di finanza e per le altre forze dell'ordine credo che questa sia una misura magari con il contributo di tutte le rappresentanze per poterla anche scrivere in maniera unica e univoca e uniforme tale per cui il diritto sia riconosciuto in via generale altro riferimento invece di tipo economico perché tutti ci rendiamo conto che ovviamente le risorse stanziate per le forze armate non sono tante nessuno gioca all'uno in più tanto meno noi è evidente che però non possiamo neanche ragionare mi permetto di correggere un po' il tiro del collega che mi ha preceduto con la questione della mancetta cioè diteci quello che possiamo accontentare due spicci li diamo a tutti non può essere questo credo che vada aperto un confronto serio con con le rappresentanze indicando quali sono qual è se vi è mi pare che siano emersi dalla relazione emerge emerge chiaramente uno o più criticità che di fatto creano una disequiparazione tra le forze dell'ordine penso a quella del passaggio da luogotenente a ufficiale dei concorsi viene rappresentato che nella guardia di finanza per esempio in questo caso vi è una disparità poi che si raggiunga che si raggiunga nell'annualità attuale messa cioè corretto il punto giuridico che si raggiunga nell'annualità prossima quindi dalla prima applicazione o si raggiunga nel tempo perché magari il governo non dispone attualmente delle risorse finanziarie per farlo credo che sia un altro punto cioè c'è un impegno in cui si dice si fa un pezzo adesso poi magari l'equiparazione si raggiunge nei prossimi anni mi sembra più serio e più rispettoso nei confronti del lavoro della guardia di finanza piuttosto che delle altre forze visto che adesso ci occupiamo esclusivamente della guardia di finanza avendo le divise per corpi piuttosto che dividere insomma la mancetta per se ci sono le risorse si fa subito se non ci sono le risorse si programma un intervento anche nel tempo intanto facciamo la correzione giuridica per equiparare i diritti di pari grado di un corpo a un altro corpo visto che ancora vengono considerati all'unisono quando ravviso ancora la necessità che probabilmente si debbano in qualche modo scorporare i diversi corpi tra forze dell'ordine e forze armate anche perché hanno finalità diverse e che probabilmente meritano ognuna una sua attenzione particolare grazie grazie a lei collega Prisco io non ho altre richieste a parte prego onorevole per chiarire al collega Prisco forse io mi sono spiegato male qui non c'è nessuna mancetta ma per chiarire in generale tra colleghi il testo che qui arriva in discussione e sul quale abbiamo le audizioni o dei coceri e poi dei sindacati della Polizia di Stato è un testo che ha risolto come dice questa relazione molte delle richieste che c'erano in coda al precedente riordino sulle quali c'è già uno stanziamento sul testo che ci arriva lo stanziamento c'è già sono stati aggiunti dal governo ulteriori 60 milioni a noi risulta ieri abbiamo avuto una riunione al Ministero dell'Interno col Vice Ministro che per questo io nel mio intervento prima l'ho chiesto che su questa ripartizione dei 60 milioni che sono tot Polizia tot Carabinieri tot Guardia di Finanza ci sia stata un'interlocuzione con i sindacati Polizia e anche con l'organizzazione dove lo stanno annuendo per capire tra le varie richieste quindi non è una mancetta sono dei soldi in più per le questioni che ancora sono rimaste risolte a valle di questo testo scusate quindi la domanda che facevamo noi con i relatori era a fronte di quest'ulteriore stanziamento che va oltre quello che ha già finanziato questo testo vigente le richieste che ne vedo tre di costo poi ci sono delle richieste scusa come dicevi tu giustamente ci sono delle modifiche legislative a costo zero quella invece è una questione diciamo politica tipo questa cosa del 42 bis le richieste che voi fate che possono avere un costo quale costo hanno per farci noi mediatori nei confronti di uno stanziamento che già c'è e già suddiviso per corpo per capire se le richieste che loro fanno rientrano in quella trans ma non è una mancetta cioè tutto meno che una mancetta bene grazie non ho altre richieste da parte dei colleghi quindi darei la parola al generale Trotta per una replica prego sì innanzitutto chiedo scusa in effetti nel documento è inserito un riferimento non preciso laddove è citato l'articolo 45 dello schema del decreto legislativo in realtà ci riferivamo all'articolo 40 che interviene sull'articolo 45 del decreto legislativo numero 95 del 2017 quindi in effetti siamo stati imprecisi in questo l'altra domanda sulla quantificazione degli oneri noi diciamo chiaramente abbiamo rappresentato anche alle nostre amministrazioni queste esigenze la quantificazione diciamo degli oneri richiesti è in corso quindi io non sono in grado adesso di dire quanto costa l'unatantum per gli appuntati scelti arruolati il primo ottobre 1994 per sanare il problema dei vice brigadieri nominata in data antecedente al primo ottobre 2017 non sono in grado è in corso la quantificazione noi abbiamo indicato chiaramente alle nostre amministrazioni che con quelle risorse desideravamo appunto venissero risolte queste criticità che sono da noi ritenute prioritarie per quanto riguarda il problema del 42 bis il problema diciamo sta nel fatto che il diniego può essere motivato secondo la dicitura che è stata inserita adesso nello schema del decreto legislativo può essere motivato per esigenze organiche e di servizio il nostro timore è che questo sterilizzi di fatto l'istituto che è un istituto che insomma viene previsto per tutelare la famiglia per tutelare specialmente i bambini piccoli perché ricordo che è un movimento è un istituto che prevede il trasferimento di militari di personale della pubblica amministrazione che ha figli di età inferiore ai tre anni è una misura di carattere temporaneo al termine dei tre anni bisogna fare ritorno al reparto diciamo di appartenenza noi temiamo diciamo che se in una legge viene inserito che il diniego può essere motivato anche da esigenze organiche di servizio di fatto venga sterilizzato l'istituto perché in realtà siamo tutti sotto organico diciamo ovunque in qualunque sede e quindi di fatto qualunque istanza possa essere legittimamente negata sulla base di questo principio mi sono fatto cercare la norma su questa questione 42 bis perché mi sembra una discussione utile che interessa anche gli altri colleghi voi chiedete che la dicitura al diniego è consentito per motivate esigenze organiche di servizio chiedete la riforma però la norma madre a cui voi fate riferimento che è la 42 bis del decreto legislativo 251-2001 che varia erga omnes per i dipendenti pubblici si chiama assegnazione temporale dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche quindi non vale solo per i corpi di polizia e dice genitore con figli minori di tre anni eccetera 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 può essere assegnato ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione eccetera eccetera previo assenso dell'amministrazione di provenienza e assinazione l'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali quindi rispetto alla norma erga omnes che vale per tutti i dipendenti pubblici che c'è scritto per casi eccezionali qui c'è scritto invece per esigenze organiche e di servizio quindi se invece qui ci fosse scritto esigenze eccezionali no perché voi chiedete il modifico di una norma che vale per 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici non è che si può modificare per la guardia di finanza voi ci chiedete la modifica di una norma legislativa che vale per tutti quindi se la differenza è tra esigenze eccezionali e organiche di servizio messo che si può anche mettere però guardate che poi sotto la dicitura eccezionale se la ragione dell'amministrazione è organica e di servizio ma la passano come norma eccezionale state chiedendo una cosa che non cambia nulla della possibilità di diniego lo dico per voi ammesso che si possa perché voi ci chiedete per una situazione particolare la modifica di una norma che è generale non so dovrà essere fatta una riflessione politica però mi pare che voi chiedete un cambiamento che non cambia nulla dal punto di vista della norma generale grazie collega Fiano do adesso la parola al colonnello Antonio chiedo scusa presidente posso una brevissima replica su quello che ha detto l'onorevole Fiano in realtà noi non chiediamo una modifica dell'articolo 42 bis della 151 del 2001 in realtà noi ci stiamo tra virgolette opponendo alla modifica che è inserita nello schema di decreto legislativo nel senso che la norma generale come era scritta veniva applicata anche all'amministrazione del comparto sicurezza e difesa con anche un indirizzo giurisprudenziale abbastanza consolidato ritengo secondo il quale la mera carenza organica nell'ambito dell'amministrazione dell'appartenenza non legittimava un diniego perché la norma per come è stata modificata poi con la legge Madia precisa che l'iniego è possibile solo per motivi eccezionali secondo la giurisprudenza consolidata la carenza organica non è un motivo eccezionale che può legittimare il diniego modificare solo per il comparto sicurezza quindi solo per la guardia di finanza e per l'arma dei carabinieri l'articolo 42 bis inserendo la locuzione che il diniego è legittimo per carenza organica di servizio secondo noi sterilizza la portata della norma per quanto riguarda il personale della guardia di finanza e dell'arma dei carabinieri questo e quindi noi non chiediamo la modifica del 42 bis noi chiediamo l'applicazione del 42 bis completo al personale del comparto sicurezza e difesa grazie sì le chiedo un intervento però brevissimo sono il luogo del ente Leonardo guardia di finanza l'onorevole Fiano se cortesemente può prendere anche il testo praticamente l'articolo quello che prevede la modifica all'articolo 45 del decreto legislativo ecco troverà che è inserito il 31 bis quindi viene inserito ed è spot per quanto riguarda le forze di polizia non è erga omnes per tutti i dipendenti pubblici non è una cosa di poco conto io direi grazie per il chiarimento però dobbiamo anche passare avanti do quindi adesso la parola al colonnello Antonio Buccoliero del COCI a sezione Carabineri prego colonnello grazie presidente onorevoli presidenti e membri della prima e della quarta commissione della camera dei deputati un sincero grazie da parte di tutti i componenti del COCI Carabineri per l'opportunità e per il riconoscimento che con questa audizione avete voluto attribuirci prima di dare lettura del documento del riordino approvato nella seduta di ieri dal COCI Carabineri permetteteci di rivolgere un pensiero doveroso ai colleghi dei vigili del fuoco deceduti nell'alessandrino e nell'adempimento del dovere un ulteriore contributo di sangue che deve far riflettere tutti sull'importanza del riconoscimento del quotidiano sacrificio messo in campo dai valorosi vigili del fuoco alle loro famiglie va il nostro deferente e partecipato cordoglio ci ritroviamo a distanza di circa un anno a sederci nuovamente con lo stesso orgoglio in questi banchi per esprimere con spirito collaborativo il nostro contributo di pensiero in relazione a una materia assolutamente importante quale quella del riordino dei ruoli e delle carriere un riordino quello del 2017 che non ha soddisfatto le attese dei nostri colleghi così come i successivi correttivi del 2018 che a nostro avviso non hanno sortito l'effetto aspicato questo è stato recepito anche dal governo che con deleghe contenute nella legge primo dicembre 2018 132 ha dato la possibilità di intervenire con i cosiddetti correttivi di secondo tempo che hanno portato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017 95 che sono le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia che è stato poi ratificato con atto del governo numero 219 ed assegnato il 30 settembre scorso a codeste cam provvedimento quest'ultimo che tuttavia a parere del coger carabinieri non ha pienamente soddisfatto le attese dei rappresentanti non potendosi a causa delle limitate risorse operare tutti gli interventi necessari a correggere le storture manifestatesi con l'entrata in vigore del suddetto decreto l'insufficienza delle risorse che abbiamo da sempre lamentato è stata percepita anche dal governo che a riguardo nei giorni scorsi ha stanziato ulteriori 60 milioni di euro per poter garantire con maggiore incisività i dovuti correttivi che tutti attendono ma che restano sempre briciole rispetto alle necessità di riordino registrate l'organismo auspica che questa volta non si perda l'opportunità di dare le dovute risposte tanto attese dal personale contrattualizzato sarebbe un vero peccato perdere l'occasione che ha visto questo coger trovare un punto di incontro con lo Stato maggiore nell'adozione degli interventi correttivi cosiddetti di secondo tempo ci sono a nostro avviso importanti modifiche sostanziali da attuare con il provvedimento capace di rimuovere quelle strutture ancora persistenti in particolare si richiamano le ipotesi di riduzione complessiva di tre anni da appuntato scelto a appuntato scelto qualifica speciale che prevede una progressione ipotizzata nel ruolo di 5545 invece della 5546 già prevista nel testo base una ipotesi di riduzione di permanenza di due anni nel grado di vicebrigadiere progressione ipotizzata nel ruolo 358 invece della 556 già prevista nel testo base e un'ipotesi di riduzione di permanenza di un ulteriore anno nel grado di maresciallo ordinario progressione ipotizzata nel ruolo 25784 invece della 26784 già prevista dal testo base ad esse si aggiungono una serie di interventi correttivi che verranno dettagliati poi direttamente nei singoli interventi dei delegati delle varie categorie modifiche quelle che chiediamo a gran voce che in alcuni casi abbiamo proposto anche ad invarianza di spesa ovvero senza alcun costo per le casse dello Stato non vogliamo ridurci a fare un mero elenco delle correzioni all'articolato ma quello che invece aspichiamo è poter vedere attuate interamente le proposte che questo coce era peraltro condiviso con lo Stato maggiore l'emanazione di un disegno armonico ed efficace ridarebbe fiducia e motivazione al personale indivisa che quotidianamente continua a operare sul territorio per garantire sicurezza e fornire rassicurazione significa infatti investire su chi è deputato a garantire e salvaguardare anche a sacrificio della propria vita i diritti e l'incolumità dei cittadini producendo migliori condizioni di vita per le attuali e future generazioni signori Presidenti onorevoli deputati ne ringraziavi ancora una volta per aver consentito al cocer carabinieri di esprimere la propria posizione in relazione a un provvedimento ritenuto di vitale importanza per il futuro del personale dell'arma ci auguriamo di potervi incontrare ancora quale parte attiva della concertazione per fornire del nostro fattivo leale contributo a margine del documento approvato intervengo anche per la categoria che non risulta protagonista dei presenti correttivi ma giova a ammentare che la suddetta categoria non è esclusa dalla necessità di superare alcune evidenti ingiustizie solo due esempi rendono l'idea di come si deve intervenire per correggere alcune disparità di trattamento per le quali devono trovarsi adeguate risorse la prima consiste nell'ipotizzare l'emendamento 4 terra all'articolo 45 del decreto legislativo 95 del 2017 che consenta agli ufficiali dei carabinieri del ruolo tecnico a nomina diretta aventi quale titolo propedeurico all'accesso in ruolo la laurea specialistica di ottenere la valorizzazione delle classi stipendiali a 23 anni e non a 25 per parificarli con tutti gli ufficiali diciamo delle altre forze armate che si trovano nelle stesse condizioni è un emendamento che corregge un disallineamento che riguarda una platea di solo 14 ufficiali i cui costi sono irrisori pari a soli 30.000 euro il secondo riallineamento che si chiede per gli ufficiali è riferito ai maggiori e tenenti colonnelli che per effetto della dirigenzializzazione hanno di fatto perso il trattamento economico del Fesi e pertanto si chiede che tale riforma sia resa effettiva con il ristoro di quanto perduto con il Fesi nel trattamento stipendiale grazie grazie a lei colonnello proseguiamo con gli interventi degli altri rappresentanti sono il luogotenente Carmine Caforio del COCER Carabinieri e parlo a nome degli ispettori onorevoli presidenti e membri delle commissioni riunite sin dal primo momento della nostra nomina tra gli obiettivi principali che la categoria ispettori si è prefissata è stata proprio quella di ridare la legittima interpretazione ad un riordino delle carriere che sotto molti aspetti riteniamo abbia trascurato alcuni dei principi fondamentali sanciti dall'ecoordinazione nonché dalle norme che regono il buon andamento della pubblica amministrazione dopo un anno di incessanti lavori e di serrati confronti ci ritroviamo ancora una volta riuniti innanzi a voi per illustrare gli errori commessi con il riordino delle carriere varato nell'anno 2017 e le conseguenze e iniquità che si sono ripercosse maggiormente nei confronti di alcuni gradi della nostra categoria ispettori gli effetti dell'eterica usati dall'impianto normativo hanno generato demotivazione crescente e malcontento che anche grazie ai social si è diffuso velocemente a macchia d'olio consentendo a migliaia di ispettori sparsi nei posti più disparati del territorio di potersi confrontare e rafforzare quando inaspettata speriguazione subita il legittimo sodalizio ha prodotto una valanga di ricorsi collettivi tuttora al vaglio delle autorità amministrative non dimentichiamoci che a breve si pronuncerà anche la corte costituzionale che valuterà i verosimili profili di illegittimità di cui soffrono i decreti legislativi in argomento i nostri sforzi uniti ad un lavoro attento leale e disinteressato rafforzati da autorevoli consulenti esperti in materia di riordino si sono esclusivamente concentrati su quei provvedimenti che appaiono chiaramente iniqui e che oggi meritano indispensabilmente di essere corretti così come previsto perentoriamente dalla norma in materia in tale quadro ribadiamo l'avvilente posizione assunta post riordino dagli ex masups attuali ancora marescialli maggiori infatti gli appartenenti a tale categoria dobbiamo ricordare che benché avessero raggiunto l'apicalità e con carriere giunte quindi al vertice del ruolo inspiegabilmente sono stati inquadrati in una posizione subordinata rispetto al nuovo grado qualifica di vertice con perdita delle corrispondenti prerogative e con l'obbligo di rifare il medesimo percorso già faticosamente superato prima dell'entrata in vigore del riordino delle carriere e come un corridore che dopo aver vinto una lunga ed estenuante gara che ha portato a salire sul podio viene informato che le regole sono improvvisamente cambiate e che la meta raggiunta è solo una tappa e non il traguardo che ha meritatamente conquistato sotto una forma diversa ma altrettanto grave rimarchiamo ancora una volta la profonda mortificazione subita dai tanti ex marescialli capo più otto oggi naturalmente marescialli maggiori i quali solo per colpa di scelte irragionevoli fatte negli ultimi vent'anni dall'amministrazione rimanevano intrappolati in un tunnel che non gli lasciava alcuna possibilità di progressione come tutti ben sanno questo era uno dei principali problemi che la nostra amministrazione attraverso il riordino del 2017 aveva l'obbligo giuridico di risolvere collocando questi ispettori nella stessa aliquota di avanzamento degli ex masus con anzianità di spalvina 1-1 2017 cioè l'entrata in vigore del riordino benché alcune delle posizioni sopra lo state siano state sanate anche grazie agli autorevoli interventi attraverso lo schema del decreto legislativo in trattazione ci auspichiamo che nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e della giustizia il nostro corale appello rivolto con spirito di leale collaborazione nei riguardi degli autorevoli presidenti e membri delle commissioni unite possa fornire ulteriori spunti di riflessione affinché vengano corrette adeguatamente tutte le posizioni degli ispettori penalizzate e non solo alcune molte dei quali si sono visti scostretti a ricorrere alla giustizia amministrativa sottravendo altri soldi alle loro famiglie e ai loro figli in sintesi restituire l'attuale grado apicale di luogotenente e con esso dignità e motivazione a tutti gli ispettori declassati e demanzionati i quali ante riordino come abbiamo già detto e precisato avevano raggiunto l'apicalità ricostruire fin dove possibile la carriera degli ispettori che ante riordino pur avendo maturato più di otto anni nel grado a maresciallo capo nonostante annovilino carriere brillanti non hanno avuto la possibilità di avanzare al grado superiore solo a causa delle scelte irragionevoli adottate nell'ultimo ventennio dell'amministrazione non dimentichiamoci che molti di questi marescialli capi oggi marescialli maggiori hanno subito un ristagno nel grado anche di venti anni senza aver alcun demerito ridurre ulteriormente la carriera da ispettori anche per poter dare la possibilità a coloro che si arruolano naturalmente tardi o ai vincitori di concorso interni di raggiungere l'apicalità del grado inderoga agli articoli 1325 bis 1059 1047 2253 bis tutti i marescialli e i luogotenti compresi negli aliquote ordinari e straordinari di cui agli articoli 2253 bis 9 bis ter quater 9 quinquis nonché l'articolo 2253 ter 4 bis 4 ter 4 quater così novellati ed aggiunti al decreto legislativo correttivi di secondo tempo saranno promossi in ordine di ruolo per decreto infine si chiede la valorizzazione economica del ruolo direttivo agli ispettori con qualifica picale affinché alla stessa corrisponda una specifica indennità si fa presente che il ruolo direttivo è già riconosciuto dalla legge non dimentichiamo che tale posizione prevede grosse responsabilità di comando con la conseguente gestione di reparti con forza organica che possono raggiungere talvolta e superare anche i 40 uomini grazie grazie a lei prossimo intervento si prego brigadiere tarallo del coce al carabinieri innanzitutto signor presidente grazie a lei per la convocazione e grazie agli onorevoli presenti grazie per l'opportunità che mi viene concessa oggi di poter affrontare il tema dei correttivi un tema che per me è particolarmente importante anche perché il giorno dopo e non leggerò nessun documento ma lo presenterò perché voglio cogliere la sfida che è stata posta dagli onorevoli e parlare anche di numeri e di soldi se mi è consentito il giorno dopo che è uscito è stato licenziato dal governo il testo per la delega al riordino è iniziato il mio personale percorso di dignità del riconoscimento di dignità al ruolo dei brigadiere un ruolo che da quando è nato nel 1995 nell'arma non ha mai avuto una sua propria definizione siamo stati sempre osati e utilizzati in base a quelle che erano le esigenze dell'amministrazione e non in base a quelle che erano le proprie prerogative del nostro ruolo ricordo a tutti che ai sensi del codice ordinamento militare articolo 627 e 629 noi siamo a tutti gli effetti dei sottoufficiali quindi quando si parla di unificazione dei ruoli delle categorie base bisogna anche per chi lo farà sicuramente lo faranno bisogna anche tenere in considerazione che il brigadiere dei carabinieri in questo particolare momento è diverso dal sovraintendente di polizia perché ha un ruolo a sé stante mentre il brigadiere dei carabinieri ai sensi del 627 e del 629 del codice ordinamento militare è a tutto tondo un sottoufficiale quindi un'unificazione dei ruoli presupporrebbe di fatto di degradare questi brigadiere a meno che li prendiamo tutti e li transitiamo o per egis nel ruolo di maresciano ora io dal 2009 sono al Cocere quindi un po' di esperienza l'ho fatta e quando ho cominciato il mio percorso ho proprio guardato quello che alcuni dicevano i soldi che sono pochi e allora quando la coperta è corta bisogna cercare anche di fare necessità virtù come si diceva però pur avendo fatto quello nel testo proposto a voi diciamo commissioni da discutere non è stato accettato ciò che i brigadieri avevano proposto noi avevamo proposto con i soldi con i fondi già stanziati quindi con questi ulteriori 60 milioni sicuramente se non lo si farà significa che non lo si vuole fare non ci sarà più la scusa dei soldi la nostra proposta ed è l'unica che ha un costo costa 5 milioni di euro per i brigadieri dell'arma i brigadieri dell'arma hanno avuto nel testo base quindi nei 120 milioni originari l'8% in meno di stanziamento l'8% in meno quindi noi comunque siamo ancora creditori di soldi di fondi da poter dedicare alla nostra categoria ed ecco perché noi abbiamo chiesto delle altre categorie in totale se nel riordino del 90 il contegato legislativo 95 i soldi furono stanziati divisi per ruolo in proporzione al numero del ruolo questa volta questo principio è stato disatteso ed abbiamo avuto almeno dico almeno l'8% in meno noi chiediamo il 358 in luogo del 556 che propone il testo base perché come dicevano anche i colleghi della guardia di finanza ci sono delle sperequazioni all'interno del ruolo dei vice brigadieri questo provvedimento per noi costa 5 milioni di euro se defarchiamo quanto costa l'attuale provvedimento magari con un paio 2-3 milioni riusciremo addirittura a risolvere un problema che chiedono tutti i brigadieri non chiediamo decorrenze economiche arretrate ma solo decorrenze giuridiche così come è stato fatto nel 1900 nel 2017 col decreto legislativo numero 95 per il resto noi chiediamo solo provvedimenti sostanzialmente a costo zero o con costi limitati per la categoria dei brigadieri capo qualifica speciale è previsto solo attualmente un uno a tantum di 250 euro come riconoscimento mentre mentre noi avendo oggi lo stesso parametro la stessa indennità di funzione la stessa indennità pensionabile del maresciallo ordinario chiediamo uno sviluppo in un ruolo esaurimento al pari di quello che hanno avuto nel decadio legislativo 95 con il ruolo esaurimento straordinario e locotenenti lo chiediamo anche noi quello aveva un costo ed è stato fatto il nostro è a costo zero e invece si vuole riconoscere ai brigadieri capo qualifica speciale nel testo base soltanto una mera elemosina per mettere il mesodico di 250 euro lordo stato che nelle tasche non sono neanche 125 euro nette quindi questo per far capire detto ciò quindi modifica del ruolo 358 in luogo del 556 ho quasi finito creazione di un ruolo esaurimento per maresciallo ordinario che è a costo zero o limitatissimi e un ultimo argomento che voglio che voglio proporre è anche l'inserimento di un concorso per titoli ed esami al concorso per al ruolo per maresciallo per gli attuali vice brigadieri brigadiere e brigadiere capo che oggi vengono ovviamente con il solo concorso per titoli vengono vanno in secondo piano non vinceranno mai grazie ai numeri importanti dei titoli che hanno le qualifiche speciali e i brigadieri capoanziani e per ultimo chiedo e chiudo l'eliminazione dai concorsi di tutti i concorsi interni perché noi parliamo di concorsi interni delle visite degli accertamenti psicoattitudinali hanno un costo eccessivo ma se io sono carabiniere e sono idoneo a fare il carabiniere se sono idoneo a fare il brigadiere come mi si può rispondere che non sono idoneo a fare il maresciallo e allora nasce un problema di fatto e quindi noi chiediamo che questi accertamenti che costano tantissimo vengano eliminati ci sono anche altri provvedimenti a costo zero che vi ringrazio presento il documento e grazie ancora sperando nel vostro autorevole aiuto grazie per chiedere capo prego l'appuntato scelto fatta grazie signor presidente signore e signori onorevoli allora ieri noi come categoria appuntati dei carabinieri ci siamo riuniti e abbiamo scritto un documento allora in qualità rappresentante gli appuntati dell'arma dei carabinieri esprime un sentimento di frustrazione in quanto i riordini e i correttivi non hanno reso possibile la riforma ambita dal personale questo perché dopo appena 19 anni di servizio un carabiniere raggiunge l'apice del grado rimanendovi per altri 20 anni la possibilità di progressione è attuata a patto di partecipare a concorsi interni che non consentono alla maggior parte di ambire a un miglioramento i carabinieri per qualifiche e compiti sono diversi dal resto dei graduati al comparto difesa e per questo nel riordino del 2017 nei correttivi dovevano e dovrebbero essere prese in considerazione le peculiarità che invece ci hanno visti imprigionati come in una gabbia ne esempio la scelta dell'incremento del primo assegno funzionale materia esclusivamente contrattuale è stata voluta agli stati maggiori non condivisa con chi rappresenta il personale scelta che ha di fatto assorbito la maggior parte delle risorse ciò ha impedito un'apertura di carriera è come l'abbassamento degli anni al fine del raggiungimento al grado apicale non considerando le esigenze dei carabinieri giovani né valutando un accorciamento di permanenza nei gradi inferiori per chiedere di legalizzare l'operato dei carabinieri che quotidianamente svolgono servizio sulla strada che senza la qualifica di UPG si vedono trovandosi talvolta ad essere limitati a aspettare l'arrivo di un brigadiero maresciallo per concludere le operazioni di polizia anche le proposte a costo zero di questa rappresentanza non hanno ottenuto l'esito positivo o spiccato con un equo riordino infatti dove nelle altre forze armate il ruolo degli infermieri ricopre il grado di maresciallo nella nostra amministrazione tal incarico è ricoperto dagli appuntati non sono grossi numeri di organico ma sicuramente darebbe una giusta dignità a chi ha studiato l'areandosi per il bene di tutti i colleghi ci auguriamo e ci auspichiamo che i 3.000 posti extra per vicebrigaderi siano dedicati a quegli appuntati scelti QS che nel 2017 hanno visto riconosciuta la sola modifica del grado apicale da P1 ad appuntato scelto qualifica speciale in modo da continuare a non rivestire la qualifica di ufficiale di UPG andando ancora contro le esigenze del cittadino che quotidianamente recandosi nelle caserme per denunciare qualsiasi evento lo stesso deve essere ratificato da un ufficiale di polizia giudiziaria nel 2019 è surreale che l'arma dei carabinieri per garantire un sistema di legalità nel prendere le denunce deve basarsi su sentenze o disposizioni delle procure e non del codice di procedura penale evidenzi inoltre come la limitazione dei requisiti per i concorsi interni dei carabinieri che pare per reatti minori ad alcuni casi depenalizzati si trovano un marchio a vita impedendo loro di concorrere sarebbe sufficiente modificare l'articolo 635 decreto legislativo 15.3 2010 numero 66 requisiti generali per il reclutamento alla lettera G inserendo la dicitura l'esclusione dei concorsi avviene con provvedimento motivato che dia conto dell'interesse dell'amministrazione nei concorsi interni da ufficiali noi del ruolo appuntati dei carabinieri siamo sempre penalizzati in quanto oltre a laurea magistrale a indirizzo giuridico cosa per alcune categorie a talvolta basta la laurea trennale siamo ulteriormente limitati anche dall'età anagrafica che ci vede vecchi a soli 40 anni inoltre si evidenzia come non sia l'indirizzo il titolo conseguito a fare la differenza culturale ma l'istruzione militare che si riceve all'interno delle scuole dell'arma ad oggi per il passaggio in servizio permanente un carabiniere proveniente da altra forza armata si vede ancora per ulteriori 4 anni in precariato questa rappresentanza ha chiesto una riduzione di un anno al passaggio in servizio permanente per non prolungare quell'attesa e garantire una stabilità morale e familiare a chi mette a disposizione quotidianamente la sua vita in favore del cittadino evidenziando che 3 anni sono più che sufficienti per valutare la peculiarità di un buon carabiniere chiudendo la nostra categoria ribadisce che con queste poche risorse assegnate non ha visto un miglioramento un'ulteriore conferma che vede il popolo dei carabinieri costretti a mantenere lo stesso grado per anni che lo limita per lavorare che a distanza di tempo lo demotiva sul servizio che deve prestare quotidianamente sulla strada e al servizio dello Stato e del cittadino vi ringrazio dell'attenzione grazie a lei passiamo agli interventi dei colleghi l'onorevole Delmono che aveva già richiesto allora per quanto riguarda aspetta un attimo prego c'è intervento che evidentemente si è dimenticato non era non era previsto non era programmato però non ci sono problemi no l'avevamo vabbè comunque non è un problema vabbè intanto non vado sul tecnico volevo cogliere l'occasione sinceramente io sono l'appuntato scelto Vincenzo Romeo nei carabinieri quindi rappresento la categoria base di base sono rappresentante militare in via esclusiva non ho doppi ruoli quindi rappresento in maniera identificativa la categoria di base ci tengo a sottolinearlo perché non parlo in maniera propagandistica anche se colgo alcuni aspetti anche politici di riflessione colgo l'occasione autorevole non parlo per altri interessi io vorrei portarvi questa grande riflessione per un semplice motivo gli interventi che facciamo con i correttivi a causa dei fondi saranno interventi che non possono giungere alla categoria di base ai giovani i giovani non sono mille duemila sono diverse decine di migliaia i giovani carabinieri quindi la categoria di base sono coloro che aprono la porta al cittadino rispondono al 112 in strada ieri sono stati investiti durante un incidente stradale l'altro giorno sempre ieri in un palazzo che si è incendiato e scoppiato cioè i nostri interventi non sono incidenti sul lavoro noi nel quadro dell'impiego pubblico ecco questo che vorrei dirvi non possiamo coesistere col contratto di lavoro e l'impiego pubblico i correttivi sono un'occasione specifica per avere delle risorse importanti queste risorse importanti che dovevamo avere sui correttivi erano 119 milioni di base di partenza doveva essere un'occasione perché è l'unico veicolo per il quale non incide sull'impiego pubblico quando parliamo di contratto di lavoro 50 euro alle forze dell'ordine parliamo dell'impiego pubblico 2 milioni e mezzo di impiegati pubblici cioè questo aspetto ci incide in maniera assolutamente penalizzante i correttivi noi abbiamo fatto l'incontro col presidente del consiglio conte abbiamo fatto l'incontro con le rappresentanze militari c'era l'allora ministro della difesa 30 e il presidente del consiglio a fronte di tante criticità tra cui la carenza organica che è un elemento devastante per la sicurezza del paese la carenza organica è devastante per la sicurezza del paese il presidente del consiglio a fronte di tante criticità ci prospettò ci paventò la possibilità di investire 200 milioni di euro per i correttivi poi hanno fatto l'incontro i sindacati sono diventati 60 milioni di euro processo inversamente proporzionale perché magari quei 100 milioni di euro sicuramente non avremmo fatto granché però a meno era una cifra che ci consentiva di fare diversi aggiustamenti la motivazione che è uno degli aspetti da cui cogliere ovviamente su tutte le criticità che ci sono anche in questa occasione è un ulteriore intervento che avviene in maniera negativa su tutti la categoria di base è quella che resta penalizzata e i giovani non possono avere un intervento importante quando tu fai un intervento come diceva l'onorevole prima dice che incidenza ha a livello economico un'incidenza per una categoria che ha 70 mila unità che la maggioranza dell'arma dei carabinieri qualsiasi piccolo intervento incide in maniera rilevante e se vuoi riproporzionare le risorse per cercare di dare un intervento a tutti ecco che da questa parte non potrà esserci mai un intervento serio l'occasione del correttivo come diceva prima un altro vostro collega era interessante tenerlo vivo abbiamo questi fondi c'è la crisi governo dobbiamo fare degli interventi benissimo questo è un intervento che possiamo fare adesso apriamo lasciamo la porta aperta per un ulteriore intervento che dobbiamo sanare questo e con questo saremmo rimasti fuori dalle dinamiche del contratto di lavoro del pubblico impiego e avremo fatto i correttivi in maniera specifica per questo comparto perché non dimenticate che le diversità che state ascoltando tra le tre forze armate tra carabinieri e guardie di finanza sono enormi già all'interno del comparto di difesa e sicurezza figuriamoci fra le categorie vi ringrazio grazie a lei passiamo agli interventi dei colleghi l'onorevole Delmonaco prego la prima cosa devo dire è che i 60 milioni di cui si parlava sono aggiuntivi rispetto a quelle che già erano stati stanziati e quindi per quanto riguarda i carabinieri sono 13 milioni e 800 quindi per i carabinieri come? no allora io ho sicuramente per mia scelta per mia questa è una questione personale sono sempre cioè sono vicino alla base e quindi magari se con questo ulteriore stanzialmente si riesce a fare qualcosa uno dei correttivi per la base benvenga benvenga perché sicuramente come diciamo prima non è un problema di mancetta è un problema di correttivi e allora noi necessariamente dobbiamo partire se e io su questo mi trovate sempre d'accordo poter partire dalla base cioè la persona che sta più vicino al cittadino è quello che sta in prima linea è quello che in fin dei conti necessariamente è il più esposto questa è una cosa importantissima anzi e quindi bisognerebbe partire da lì così come la questione dei brigadiere il brigadiere diceva prima che giustamente non siamo molte volte le carrile né pesce perché utilizzava la parola sfruttamento perché si trovano in una posizione ibrida da una volta li tirano per la giacca verso la truppa e una volta li tirano per la giacca verso i sotto ufficiali lo status gli dà il ruolo di sotto ufficiali quindi parte da lì come partiva una volta perché da lì partiva prima quella che era la carriera del futuro cioè la puntata che molto diventava vice brigadiere brigadiere maresciallo insomma quindi che poi successivamente sono staccate le cose però giustamente bisogna dare mettere dei pallini possiamo dire dei paletti per quanto riguarda la dinamicità che significa si parlava prima tutti quanti paventevate il discorso della stagnazione io una volta che ho fatto i 20 anni o 19 anni rimango lì ingessato lì per tutti gli altri rimanenti 20 anni di servizio che devo fare quindi avere la motivazione a pensare che posso diventare vice brigadiere o brigadiere quindi potrebbe essere una motivazione una stimolazione maggiore così come diceva prima il brigadiere dice magari per me posso avere posso pensare a un ruolo di esaurimento per diventare maresciallo ordinario quindi così come il loco tenente hanno tirato fuori questa doppia stelletta benvenga quindi come creato però il discorso è adesso dare proprio questa dinamicità e mettere dei paletti partiamo da lì ok una scelta chiara utilizziamo queste risorse per fare quello magari partendo dalla base e poi magari si vedrà di togliere successivamente però partiamo quindi non li guardiamo come un fatto un elemento non è anche lontanamente sono ulteriori risorse che possono essere utilizzate per partire da un piede da un punto fermo grazie grazie a lei collega del Monaco l'onorevole Deida poi il piano grazie presidente non entro nei tecnicismi poi mi guarderò le relazioni ma al di là di quello che ha detto il collega che mi ha anticipato emerge da questo riordino del comparto difesa mi leggo anche l'audizione in senato un'ennesima insoddisfazione e un'ennesima occasione mancata per mettere ordine nelle varie forze dell'ordine forza armate mi ricordo le audizioni del primo riordino cioè del riordino approvato nel primo anno di legislatura dove tutto il comparto si era detto insoddisfatto si era ripromesso dei correttivi che sono durati appunto le audizioni forse quanti sono mesi di audizioni a noi sono arrivati recentemente promesse fatte ai vari comparti uno un grande tema che non si è invece affrontato è quello che è l'ennesima che non si riconosce mai al comparto dei carabinieri della polizia della guardia di finanza che non sono una pubblica amministrazione si sono pubblica amministrazione ma la specificità dell'operato di questi uomini deve essere riconosciuto anche con norme a costo zero i soldi non bastano inutile che poi si propaganda anche tramite social network che se vengono stanziati non so quanti milioni quando poi si vede come ha detto il mio collega Cristo che si sono delle mance perché poi si dice oggi accontentiamo questa categoria in un prossimo riordino accontenteremo l'altra quando forse ci saranno altri soldi sono promesse che non si possono fare grazie grazie collega Dehida l'onorevole Fiano prego scusate presidente prima qualche numero nella scorsa legislatura per il riordino delle carriere sono stati stanziati 977,5 milioni l'attuale situazione del nuovo governo rispetto ai 14 miei collega Dehida ha detto nel primo anno di legislatura non è il riordino dell'ultimo anno della scorsa legislatura non è il primo anno di questo allora noi abbiamo trovato con il governo Conte 2 per gli straordinari in eccedenza 0 milioni ne abbiamo messi 175 per la dotazione di straordinari 38 e diventano 48 per la riorganizzazione delle carriere erano 119 ne aggiungiamo 60 per il contratto qui mi pare che si dimentichi che stiamo per fare per quello che mi riguarda diciamo il secondo contratto di seguito visto che ho partecipato al lavoro per il contratto fatto con il governo Gentiloni dopo 7 anni di attesa e adesso verrà rifirmato un altro contatto abbiamo trovato dal precedente governo 330 milioni che facciamo salire a 600 lo dico perché delle volte ci sono degli interventi che sembra che noi stiamo in un mare di lacrime vorrei ricordarvi che il vostro comparto ha aspettato per più di 7 anni il contratto fino al 2017 e che adesso noi avremmo l'avremmo fatto anche l'anno scorso se fossimo stati al governo comunque lo sigliamo adesso vorrei anche segnalare che secondo le tabelle in corso di elaborazione presso il ministero a regime il terzo anno potrebbe esserci un aumento medio intorno a 75 euro medio vuol dire poco perché voi avete molte disperazioni più il taglio del cuneo fiscale che a regime sarà 5 miliardi sono altri 60 euro a contratto quindi non facciamo semplicemente dichiarazioni negative su quello che si è stato fatto in questi anni perché diciamo io non sono d'accordo la cosa che peraltro il collega Deida ha citato la vostra specificità vorrei ricordare al collega Deida che sulla specificità c'è una legge e che è finanziata quindi siamo anche che abbiamo finanziato quindi siamo anche a salvaguardare quella per quello che riguarda le richieste che ho sentito da parte dei cocer dei carabinieri premesso che non è semplice per dei non addetti ai lavori capire tutte le cose che voi dite è veramente complicato quello che mi interessa capire visto che complessivamente diciamo la cornice del riordino del carriere si svolge sotto diciamo una cifra di un'equipollenza tra i vari corpi nell'organizzazione delle carriere ecco quello che io non so perché non ci arrivo a capirlo è se le richieste io per adesso ho solo una relazione scritta poi non so le altre relazioni del presidente del cocer queste tipo di richieste che voi ci fate cioè complessiva di tre anni da puntato scelto da puntato scelto QS che non so cosa qualifica speciale oppure di permanenza di due anni nel grado di vicebrigadiere mi pare abbia ribadito anche lei e di permanenza ed ulteriore anno nel grado di maresciallo ordinario se la mia domanda è tecnica se queste richieste che voi ci fate hanno un'equipollenza negli altri corpi o se fate delle richieste che producono una discrasia perché diciamo l'impostazione culturale di questo riordino e di tutti i riordini è per un'equipollenza tra i corpi quindi prima ancora di sapere se sono finanziabili se sono cioè devo prima capirle ma intanto mi interessa sapere questa cosa e siccome non ho ancora gli altri testi vabbè quando avrò gli altri testi vedrò se gli altri due interventi hanno aggiunto delle delle altre richieste finisco dicendo presidente però onestamente non so dire per i cocer ma per quanto riguarda le forze sindacalizzate cioè la la polizia di stato e la penitenziaria diciamo la questione del riordino fu approvata dall'organizzazione sindacale io non so se è stata approvata dalle organizzazioni di rappresentanza che voi avete cioè dai cocer per capire se queste proposte di modifiche che voi fate ulteriori rispetto all'ultimo testo che stiamo discutendo come dire siano mai stato oggetto di un confronto con il governo è la stessa domanda che ho fatto prima alla guardia dei finanzii concluso onorevole beh sì prego c'è tempo per una replica mi permetto di fare una breve replica per quanto attiene onorevole Fiano al contratto di lavoro è un pochettino come la storia del bicchiere mezzo vuoto e del bicchiere mezzo pieno magari per i governi che lo hanno proposto è un bicchiere mezzo pieno per noi per lo meno dell'arma dei carabinieri lo riteniamo un bicchiere mezzo vuoto ma per un motivo molto semplice non andiamo a contestare le somme che avete inserito ma come poi vengono tassate dall'inizio alla fine quando io parlo di lordo stato significa che poi netto alla mano nelle tasche del carabiniere tolto IRPEF tolto previdenziali assistenziali tolto quota stato viene meno del 50% allora ovviamente guardi se fate il colconeo fiscale magari mi date i numeri l'ultimo contratto l'ultimo contratto è venuto 60 euro a fronte di stanziamenti di molto più importanti rispetto a quelli che avete avuto quindi per quanto riguarda questo per quanto riguarda invece tornando all'argomento correttivi io quello che posso dirle almeno per quanto riguarda i brigadiere esergenti ok noi lo stesso documento o documento simile per quanto riguarda le forze armate lo abbiamo anche presentato il 25 luglio al capo ufficio legislativo ammiraglio Ottaviani dello stato maggiore difesa perché era stato chiesto un documento del cocer carabinieri non abbiamo avuto un confronto governativo però i vari diciamo i vari incontri che ci hanno sia con voi sia con altri partiti che ci hanno che ci avete fatto discutere di questi argomenti abbiamo sempre portato avanti questo tipo di indicazione il nostro non è un percorso che vuole sanare quelle che sono le problematiche dell'arma dei carabinieri della guardia di finanza o dell'esercito meneronautica quello che noi proponiamo è ciò che è giusto per i contrattualizzati almeno per quanto riguarda brigatieri appuntati e sergenti e dato che alcune di queste o molte di queste sono problematiche a costo zero o quasi a costo zero viene meno anche il discorso economico e non si capisce il perché no grazie spero di essere stato esauriente bene grazie a lei io non ho ulteriori richieste di intervento pertanto ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione grazie a tutti grazie a tutti